lei che vi sembra sia comunque saldamente in una posizione contro il governo diciamo di opposizione all'opposizione però perché diciamo ha scelto invece di appoggiare centrodestra e lì ci sono fratelli in italia e tutti in basilicata non è abbastanza semplice in basilicata la quali non la sposta diciamo ma io non lo volevo fare la prima cosa che ho fatto è siamo andati dall'opposizione come facciamo sempre però c'era un piccolo dettaglio 1 l'opposizione ha detto col cavolo i cinque stelle hanno detto non ci devono essere due cinque stelle hanno un programma che prevede la chiusura la basilicata è la prima produttrice italiana di petrolio come regione produce il 70 per cento del petrolio italiano chiudere lo vogliono chiudere che vorrebbe dire far fallire la basilicata perché ci prendere royalties e in secondo luogo fare il reddito di cittadinanza regionale non si sa con quali soldi visto che chiudono allora dall'altro lato io non sarei andato se ci fosse stato il trux ma siccome c'è un generale della guardia di finanza con quattro lauree un popolare che in quattro anni di cui ha governato non ha fatto un provvedimento razzista però una mozione omofoba non ha fatto niente di tutto questo lei ha detto comunque era era meglio dall'altro lato a parte il fatto che non c'era l'altro lato perché l'altro lato hanno detto non entrate ma poi io posso sostenere un programma che dice che noi dobbiamo chiudere petrolio e gas che si produce in basilica da andarci da comprare da un'altra parte più caro diciamo non è un dialogo con la destra che fa ma solitare della collocazione di azione tutti i giorni sfiducio diciamo l'operato della destra se fa delle cose buone lo diciamo per questo lei sa che la nostra linea non siamo mai pregiudiziari la nostra posizione è fermamente all'opposizione però bisogna stare attenti perché non è che è un gioco tetris se tu proponi delle cose che distruggono e fanno un danno all'interesse nazionale non è che uno può far finta di niente per cui questo è il tema basta punto per il resto lo sa in abruzzo abbiamo sostenuto un bravissimo candidato scelto insieme progressista liberale capace però era insomma comunque è stato un caso molto specifico e isolato purtroppo dobbiamo chiudere con le parole salvini ha commentato su instagram la mozione di sfiducia dice mozione respinta ennesima figuraccia della sinistra andiamo avanti e vabbè e questo e questo è salvino avanti dove verso cosa ci fermiamo linea andrea pancani per coffee break grazie a carlo buona giornata domani